Una serata speciale questa sera all'Aquila in pieno centro storico che abbinerà buon cibo alla cultura. Come si svolgerà, dove e che cosa avete pensato di organizzare, aspettando la perdonanza? Grazie, allora questa sera alle 20.30 presso lo scalco dell'Aquila in Piazza San Pietro abbiamo pensato di fare una serata di cultura e gastronomica. Quindi ci sarà l'amico giornalista Angelo De Nicola che presenterà e parlerà di un libro che ha scritto di recente sulla storia dei papi, incentrato ovviamente su quello di Celestino V, in occasione della prossima perdonanza che vedrà l'arrivo di Papa Francesco per l'apertura della Porta Santa. E con lo scalco dell'Aquila abbiamo pensato, con lo chef Giovanni Ippolito, di creare un piatto ad hoc. Quindi lo scalco dell'Aquila farà il piatto lo scrigno papale, quindi una rivisitazione di un piatto noto che loro hanno nel menù da anni, però con eccellenze del territorio sia dell'Aquila, quindi della montagna che del mare. Quindi questa sera cercheremo di combinare cultura alla gastronomia, diciamo così. Grazie. 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 Grazie.